Il modo più sicuro per non essere molto infelici è non aspettarsi di essere molto felici. Ogni separazione dà un'anticipazione della morte, ogni riunione un accenno alla resurrezione. La brevità della vita, così spesso lamentata, può essere la cosa migliore. Solo il cambiamento è eterno, perpetuo, immortale. Raramente pensiamo a ciò che abbiamo, ma sempre a ciò che ci manca. La fede è come l'amore, non si lascia forzare. Il più delle volte le persone si approfittano di te dicendo che sei più bravo di loro in qualcosa. Se fanno pettegolezzi su di te, significa che sei sufficiente non solo per te stesso, ma anche per gli altri. Gli uomini sono i diavoli della terra, gli animali sono le anime tormentate. Dopo la tua morte, sarai ciò che eri prima della tua nascita. non dire al tuo amico ciò che il tuo nemico non dovrebbe sapere. Il compito del romanziere non è quello di raccontare grandi eventi, ma di rendere interessanti quelli piccoli. Abbiamo raccolto queste citazioni di Arthur Schopenhauer, filosofo e matematico tedesco, divenuto celebre nel XIX secolo e considerato uno dei filosofi più influenti del panorama moderno. Egli abbracciò pienamente il significato della filosofia nella vita di tutti i giorni ed è tuttora una vera e propria icona della filosofia. Grazie a tutti.